Le persone anziane, in particolar modo, di comunicare, quindi di ritrovarsi insieme. Siamo arrivati anche quest'anno a questa calda terza età che è ormai giunta alla 33esima edizione e che si terrà quest'anno dal 6 luglio fino al 24 di agosto. Ed è, come ogni anno e quest'anno ancora di più, un insieme di tante iniziative, incontri, momenti conviviali, visite culturali, turistiche, enogastronomiche. Ecco, la varietà è sempre maggiore di anno in anno. Anche quest'anno davvero l'offerta è molto articolata e ricca. Gli anziani sicuramente non si annoieranno anche durante quest'estate che speriamo sarà comunque mite anche da un punto di vista meteorologico ma soprattutto è importante perché oltre la varietà anche quest'anno questa iniziativa, questa rassegna che rientra dentro il progetto di promozione della longevità attiva All But Gold in coprogettazione con la Proloquo Fanno un Fortune e coordinato il progetto dai due referenti che sono Giorgio Falcioni e Sauro Berluti anche quest'anno prevede un'apertura un'apertura non solo alle collaborazioni con altre associazioni del posto ma anche soprattutto alle realtà che circondano Fanno e quindi soprattutto ai comuni dell'ambito territoriale e sociale numero 6. Lo scorso anno c'erano stati due incontri, due scambi con la realtà di Pergola e quindi con l'associazione Hauser di Pergola e in particolare con il gruppo di anziani di Pergola quest'anno l'apertura è nei confronti, lo scambio, la collaborazione è nei confronti delle realtà di Mondolfo e di San Costanzo Il 15 luglio ci sarà un'intera giornata dedicata appunto a quei due comuni a quelle due realtà con un'accoglienza organizzata appunto dalle associazioni di quei due comuni nei confronti del gruppo degli anziani che vorranno partecipare di Fanno che poi verrà ricambiata il 20 luglio a Fanno con una visita guidata al museo, alla Pinacoteca e poi con una serata che si conclude sempre in maniera conviviale anche con alcuni riconoscimenti ecco è un bel esempio appunto di un territorio, di una comunità che nel promuovere iniziative di incontro, di socialità, di aggregazione e quindi di promuovere il benessere per la terza età si occupa e mette insieme tutte le realtà che sono presenti sul nostro territorio ma sempre con uno sguardo verso anche gli altri comuni dell'ambito Io credo che davvero anche quest'anno sarà per gli anziani di Fanno ma poi anche per gli altri sarà comunque una bella estate